Nei secoli, i filosofi hanno sempre tentato di fornire delle prove, degli argomenti, per cercare di dimostrare l'esistenza di Dio con la ragione. I più nodi sono quelli di Sant'Anselmo d'Aosta e di Sant'Ommaso d'Aquino. Si è anche discusso però se era effettivamente possibile che la ragione umana potesse provare l'esistenza di Dio, esempio più famoso è Kant, ovviamente, ma anche se cercherò di discutere se quegli argomenti effettivamente dimostrassero l'esistenza di Dio. Dopo che Kant sembrava che i filosofi si fossero resi a tentare di dimostrare razionalmente l'esistenza di Dio. Negli ultimi anni però, nella filosofia analitica, questi tentativi sono orinati. Questa è filosofia, viene anche chiamata filosofia del linguaggio, perché si basa sull'analisi logica del linguaggio umano, cercando di capire se quello che noi diciamo ha senso oppure no. Si fa un ampio uso della logica formale, della logica matematica e delle logiche non classiche. Viene anche chiamata filosofia anglo-sassone o anglo-americana, perché è fondamentalmente un fenomeno americano, oltre che inglese, ma anche australiano, insomma, tutti i paesi dove si parla che inglese, proprio che altro in America. Nei giorni, no, stream, filosofi come Alvin Plantinga, William Lane Craig, di cui vi parlavo anche prima, e Anthony Kenny, stanno di me occupando dell'argomento. Non posso dilungarmi, ma vi lascio in descrizione alcuni video il sito di William Lane Craig, il quale parla dell'argomento ontologico visto dalla Plantinga, spiegati in termini umanamente comprensibili, dato che si basa sulla logica modale, molto difficile da capire. Questo è in realtà un argomento che deriva da quello di Gödel, che a sua volta lo riprendeva da Leiboniz, il quale lo riprendeva da Anselmo d'Aosta, oltre che da Anscoto, che è venuto un po' dopo. Ma anche parla anche dell'argomento per contingenza di Leiboniz, e anche altri argomenti da lui sostenuti, tra cui anche il Calam, di cui quello di cui parla con il video su Big Bang, e anche altri argomenti, di cui lascio a voi decidere se posso essere così adivari oppure no. Valutate voi stessi. Vi anticipo però che certamente non ci vuole molto capire l'argomento morale sostenuto da Craig è una grandissima cretinata. Craig, diciamo soprattutto, vi lascio a lui perché lui è un spiega di essere un filosofo, innanzitutto fin da ragazzo aveva il talento dell'eloquenza, lui parla molto bene, dice a spiegare molto bene delle cose, a prescindere dal fatto che siano vere o farse, anche cose di fisica, di logica, insomma, lui le spiega molto bene, ed è facile da comprendere. Comunque, questi sono argomenti molto controversi, bisogna capire bene bene la logica formale, la logica modale e la fisica, per capire, per poter dare una risposta, se c'è una risposta sulla varietà di questi argomenti. Grazie.